Ehi bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo sul cellulare perchè volevo farvi vedere un piccolo tutorial su come registrare lo schermo dell'iPhone cioè come sto facendo io in questo momento allora in primis dovete andare su Safari perchè questo qua è solo per iPhone cioè io conosco questo qua per iPhone e dovete andare su inocidia poi vi verrà inocidia.net e questo qua è il giusto sito voi lo aprite e aspettate che caricate inocidia 2.0 poi vi verrà fuori download jailbreak dove dovete fare il download e dovete aspettare vi verrà una serie di cose scritte tipo download fatto jailbreak così vi farà ok è tutto a posto e voi dovete fare così fare qua su questa cosa qua vi verrà comunque anche il messaggio e aggiungiamo e vi verrà fuori qua qua adesso da queste parti inocidia da questo inocidia otterrete un codice vi porterà su una pagina che c'è su un video di un youtuber inglese che dove ci sarà un link che vi porterà questa pagina emu4ios.net dove da qua potrete scegliere quello che volete fare c'è per esempio adesso mi carica magari possiamo ricaricare un momento aspettate ok vedete ci sarà show.tv emu4ios.net iREC quello che uso io feature point iTransmission iO ids e così e tanti altri io per esempio mi scarico o iREC o show.tv in questo caso mi sono scaricato iREC perchè show.tv devi è molto più utile perchè puoi fare anche le live ma in show.tv devi mettere tipo tipo aspetta come si chiamava devi mettere tipo quello perchè se non sei bravo che c'è tipo il pulsantino che ti fa home tutto così e dopo andate su iREC andate qua scrivete vedete adesso vi sto registrando questo video scrivete il nome fate avvia registrazione e quando volete finire schiacciate qua e quindi questo era un breve tutorial su come ehm registrare lo schermo sull'iPhone io però io so solo sull'iPhone cioè con questo qua poi scegliete questo scaricato show o iREC io ho scaricato iREC ah poi dovete fare un'ultima cosa quando accenderetevi vi farà ehm iPhone non riconosce questo vuoi autorizzarlo voi fate sì e quindi qui da r66 è tutto e commentate iscrivetevi lasciate mi piace alla pagina facebook non lo scrivevo ehm perchè non ce l'ho volevo dire iscrivetevi a google più commentate se questo tutorial vi è servito e mettete mi piace e niente ci vediamo al prossimo video bella a 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